Avviso ai naviganti. Se Draghi andrà al Quirinale, gli italiani andranno alle urne prima della scadenza naturale della legislatura perché non c'è nessuno in giro che abbia l'autorevolezza dell'attuale premier e possa tenere insieme una maggioranza così eterogenea. Sibila il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. È un'altra conferma, a distanza di 24 ttr ore dalla dichiarazione di Matteo Salvini che ha fatto sapere che farà di tutto per evitare che anche il prossimo presidente della Repubblica arrivi dal PD, di come la campagna di Libero, no a chi vuole rubarci il Quirinale, abbia colto nel segno. Il centro-destra si è rianimato e ricompattato, la corsa al colle ora è diventata una battaglia comune della coalizione, non un percorso autonomo dei tre leader l'uno rispetto all'altro. La frase di Tajani arriva all'indomani del giorno più bue per il PD, costretto a prendere atto di quanto era evidente a tutti, ovvero sia che insistere per un secondo mandato a Mattarella avrebbe configurato il reato di Stolking, mentre rieleggerlo contro la sua volontà ripetutamente manifesta sarebbe un sequestro di persona. Il gran rifiuto del presidente ha riportato da un tratto i democratici nella realtà. Pare che perfino Lett e Bettini abbiano compreso che è inutile tirare fuori dallo stanzino delle scope i polverosi manichini di Finocchiaro, Violante, Bindi, Veltorni o chi che sia, perché a questo giro la sinistra non ha i numeri per imporre uno dei suoi e il centro-destra non pare disponibile a fare regali, tanto meno Renzi che si sta mettendo d'accordo con Totti e il centro per raggruppare un pacchetto di unottantina di grandi elettori determinanti per decidere la partita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!